Ciao a tutti e benvenuti su Panno Barbaro TV, io sono Lorenzo e sono il fondatore di Panno Barbaro e Panno Barbaro fa t-shirt ricamate, tipo questo qui dietro che vedete questo qui è un diario della nuova collezione che sto facendo e vuole essere un po' una serie di video che spiega i vari passi per fare le t-shirt che usciranno verso marzo, credo la principale novità è che le farò tutte in Italia, questo perché mi sono reso conto nella prima collezione che avere un brand di abbigliamento made in Italy è comunque una figata perché è un valore aggiunto incredibile e poi perché avevo avuto tante spese di spedizione che non voglio avere adesso ci sono altre due cose da dire, che facendo le cose qua vicino il prodotto ha un impatto ambientale più basso e comunque aiuto il mio piccolo, insomma, questa economia italiana che non vuole ripartire dunque nei prossimi video vedremo un po' come è fatta una t-shirt, come è fatto il ricamo, vedremo il photoshooting ci saranno insomma cose interessanti, perciò guardateli, seguitemi e postate suggerimenti, critiche, ecc ciao a tutti